Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con il ritorno della simulazione giornata per giornata Ma questa volta con la Sampdoria Dalla prima fino all'ultima giornata Mi raccomando supportate il format con un mi piace qua sotto 30, 40, 50 mi piace qua sotto Un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi Mi raccomando iscrivetevi e fatemi sapere alla vostra Qui sotto con un commento cosa ne pensate Con che squadra dovremmo fare il prossimo episodio Noi incominciamo subito, eccoci qui La prima giornata sarà Ternana-Sampdoria ragazzi Ternana-Sampdoria e direi di partire subito Facciamo un massimo di 3 gol, un minimo di 0 Non perdiamoci in chiacchiere, incominciamo Ternana che fa 2 gol La Sampdoria risponde con 2 gol E' un pareggio l'esordio di Andrea Pirlo in trasferta a Liberati Ternana-Samp 19 agosto finirà 2-2 Sampdoria-Pisa ragazzi Seconda giornata, proseguiamo Samp 2 gol, buono Vediamo il Pisa cosa decide di fare Il Pisa fa 0 gol e quindi è vittoria Targata Andrea Pirlo 2-0 contro il Pisa Sampdoria-Venezia Altra partita casalinga della Samp Che giocherà contro la squadra di Vanoli Fa 3 gol ad Oria tantissimo Il Venezia ragazzi risponde con 0 gol 3-0 Seconda vittoria consecutiva E 7 punti per Andrea Pirlo e la sua squadra Un grandissimo inizio Cremonese-Samp Attenzione Cremonese Che fa 0 gol Vediamo la Samp ha la grande occasione di vincere La Samp fa 2 gol E quindi 0-2 0-2 E una grandissima vittoria Per continuare il percorso Verso la Serie A Secondo il format Secondo ragazzi ovviamente Il generatore di numeri Che format Andiamo avanti Sampdoria-Cittadella E la Samp fa un gol Attenzione Il Cittadella può pareggiare O vincere addirittura questa partita Il Citta fa 3 gol Arriva la prima sconfitta Dopo 5 giornate Cade in casa La squadra di Andrea Pirlo Perde 1-0 1-3 contro il Cittadella Parma-Samp Proseguiamo nella nostra simulazione Ragazzi Parma-Samp Il Parma-Fon goal La Sampdoria risponde Con 3 gol 1-3 Grandissima vittoria in trasferta E si prosegue Sesta giornata Sarà Settima giornata Scusatemi Sarà Como-Samp 26 novembre 2023 Attenzione Como-Samp Il Como Fa 2 gol Attenzione La Samp ragazzi Risponde con 2 gol Pareggio Ci può stare Pareggio da Como Sappiamo che questa sera Un campo molto molto ostico Sampdoria Catanzaro Vediamo un po' Cosa decide il generatore La Samp Fa 0 gol Il Catanzaro potrebbe vincere Al Ferraris No Perché anche il Catanzaro Secondo generatore Fa 0 gol Quindi fice 0-0 Secondo pareggio consecutivo Non aggiornata Ascoli Sampdoria Va in scena una partita difficile Contra una squadra ostica Di William Viali L'Ascoli fa 0 gol La Sampdoria Risponde con 2 gol Vittoria esterna Importantissima Con annesso Clean sheet 0-2 E Sampdoria Cosenza Decima giornata Acceleriamo La Samp Fa 2 gol Il Cosenza Risponde Con 0 gol Quindi un altro Clean sheet Un'altra vittoria Per 2-0 Importante anche questa vittoria Nel cammino Della Doria Suttirol Sampdoria A Bolzano Contro Suttirol Di Bisoli Non è mai facile Perché il Suttirol Clamorosamente Fa 3 gol La Samp Risponde Con 0 gol Aia Sarebbe una sconfitta Bruttissima 3-0 A Bolzano Cade la Doria 12esima Sampdoria Palermo Bellissima partita La Samp di Andrea Pirlo Va in scena Con 3 gol Col massimo Il Palermo Di Eugenio Corini Risponde con 2 gol Vittoria importante Di carattere 3-2 Vince la squadra Di Andrea Pirlo Modena Samp Ragazzi Giornata numero 13 Datata 11 novembre 2023 Il Modena di Bianco Fa 2 gol La Samp di Pirlo Ne fa 1 Perde 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 Sconfitta Esterna Sampdoria Spezia Big match E soprattutto derby Ligure La Samp In casa Il Ferraris Fa 3 gol Lo Spezia Del Neotecnico Alvini Fa 0 gol Quindi vittoria netta Schiacciante Per 3-0 Quindicesima Giornata Siamo quasi arrivati Alla fine del girone Andata Attenzione Sampdoria Brescia Sampdoria Perché sappiamo Che l'X Starebbe per la Regina Ma la Regina Molto probabilmente Non farà la Serie B E quindi È Brescia Samp Brescia Che fa 2 gol La Samp Ragazzi Ne fa 0 Aia Sconfitta esterna Pesantissima 2-0 Non passa a Brescia La Doria Sampdoria Lecco Contro una neopromossa Una retrocesso Dalla Serie A Contro una neopromossa Dalla Serie C La Samp Fa 0 gol Il Lecco Ha la grande occasione Di vincere E infatti lo fa 0-3 Sarebbe un qualcosa Di clamoroso Reggiana Sampdoria Proseguiamo con Reggiana Sampdoria La Reggiana Fa un gol La Sampdoria Ragazzi Ne fa 2 Vittoria sofferta In Arrivati magari In extremis 2-1 Reggio Emilia Contro gli uomini Di Nesta E Sampdoria Ferralpisalò Attenzione Diciottesima giornata La Samp Fa 2 gol Stefano Vecchi Con i suoi uomini Ne fa 3 No Brutta sconfitta 2-3 2-3 Passa Stefano Vecchi E la Ferralpisalò Al Ferraris Diciottesima giornata Si conclude Il girone di andata E Sampdoria Bari Grande partita La Samp Fa 2 gol Il Bari Signori Ne fa 0 Vince 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 La Samp Che vince 2-0 Contro il Bari Di Michele Mignani Girone di ritorno Ragazzi Girone di ritorno E quindi Andiamo avanti Venezia Sampdoria La prima gara di ritorno Venezia Samp Però finisce 3-3 Attenzione l'ho detto Venezia fa 3 gol La Doria ragazzi Ne fa Ne fa 2 Per poco Per poco non ci ho preso Sconfitta In quel In quel di Venezia 3-2 Per gli uomini di Vanoli E Sampdoria Parma L'altra partita Da simulare Ventunesima Decisiva Può essere La Samp Fa 3 gol Risponde molto bene Dopo la sconfitta Il Parma Signori Risponde con un solo gol Quindi è vittoria Vittoria netta E importante Per 3-1 Al Ferraris Cittadella Samp All'andata non andò bene Vediamo se Questa volta è più fortunata La Doria Il Cittadella fa un gol La Sampdoria Risponde Con Con 2 gol Vittoria 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 Importantissima 1-2 Sampdoria Modena Vediamo subito Subito Samp Modena Samp 3 gol Fa il massimo Il Modena ragazzi Risponde con 3 gol 3-3 Pareggio Appieni Con tantissime rete 6 gol Sarebbe una grandissima partita Pisa Samp È difficile sempre giocare in Toscana Contro il Pisa Del neotecnico Aquilani Il Pisa però fa 0 Vediamo cosa decide il simulatore Per la Samp La Samp fa 3 3-0 0-3 in trasferta Sarebbe un grandissimo risultato In un campo ostico Samp contro X Ovvero sta per Brescia La Samp risponde Con 3 gol Il Brescia Controbatte Con 3 gol Ajax Pareggio che blocca Il buon momento della Samp 3-3 Contro il Brescia Cosenza Sampdoria Il Cosenza ragazzi Di Caserta In casa Fa pochissimo Perché fa 0 La Samp risponde Con 2 2-0 Doria Contro il Cosenza Una grandissima vittoria Proseguiamo 27 febbraio Sampdoria Cremonese 27esima giornata Ci avviciniamo Verso la fine La Samp fa 3 gol La Samp fa 3 gol La Cremonese Signori Ne fa 0 Grande vittoria 3-0 Contro una squadra Diretta rivale Per la promozione Diretta in Serie A Feralpi Salò Cremonese La Feralpi Fa 1 La Sampdoria Ne fa 2 Secondo me E ho indovinato Ho indovinato Prima che uscisse Il numero Dal generatore 1-2 Vittoria Sampdoria Ascoli 29esima giornata Sono punti pesantissimi Che possono valere Una Serie A La Samp Fa 3 gol L'Ascoli Di William Biali Ne fa 3 Aia Pareggio 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 Per 3-3 Bella partita Bari Samp Giocare la San Nicola Di Bari Sappiamo che non è facile Il Bari Fa una grande partita Perché fa 2 gol La Samp risponde Colpo su colpo Però non riesce a segnare Ne fa 0 2-0 Per il Bari Sconfitta Esterna Samp Ternana Attenzione Era la prima giornata Di campionato Vediamo cosa succede adesso Samp 2 gol Ternana Signori Che ne fa 0 Vittoria Si riprende subito bene Il cammino della Samp Vince 2-0 Contro la Ternana Di Lucarelli Palermo Samp Doria Renzo Barbera In un campo difficile Contro un pubblico caldo Il Palermo fa 2 gol Ragazzi La Samp Doria Ne fa 2 Altro pareggio 2-2 Palermo Ci può stare In un campo così Ostico Contro una squadra Così forte Come quest'anno Lo è il Palermo Samp Doria Samp Doria Suttirol Punti che pesano 33esima giornata Aia Samp 3 gol Ed è molto buono Perché dobbiamo fare Samp In questo video Suttirol però Fa 3 gol Ragazzi Anche Suttirol Fa 3 gol E quindi 3-3 Spezia Samp Spezia Spezia Samp Vediamo un po' Spezia Samp Lo Spezia fa un gol La Doria Ragazzi Ne fa 1 No 0 Scusatemi 1-0 Per lo Spezia Sconfitta Nel derby Ligure Samp Doria Como Proseguiamo Samp Doria 1 Como 3 Secondo me Ne fa 3 No Ne fa 2 Infatti Ho comunque Azzeccato la sconfitta Della Doria Purtroppo L'Ecco Samp La Samp Vince 0-2 In trasferta Vediamo cosa decide Il simulatore L'Ecco fa 3 gol Fa il massimo La Doria risponde Con 0 gol Sconfitta In casa dell'Ecco 3-0 Pesantissima Ultime due giornate Samp Doria Reggiana E Catanzaro Samp Doria Samp Doria Reggiana Finisce 2 Fa 2 gol La Samp La Reggiana Ne fa 1 2-1 Quindi vittoria Importantissima Per concludere Il campionato Vediamo cosa decide Il simulatore Per la Samp A Catanzaro Finirà 2 gol Per il Catanzaro La Samp Finirà con Un pareggio 2-2 A Catanzaro La 38esima Datata 10 maggio 2024 Ora conto i punti E vi dico quanti punti ha fatto La Samp Doria Nel di aprirlo Al suo ritorno In Serie B Il punteggio Ragazzi Dice Che la Samp Doria Finirà Secondo Il generatore Di numeri Con 63 Punti Ragazzi Che tipo di punteggio è? Sicuramente ti qualifichi I playoff Sicuramente ti qualifichi Magari anche Per un eventuale Direttamente Una semifinale Playoff Magari arrivando Terzo Barra quarto Ma difficilmente Con 63 punti Puoi magari raggiungere La zona promozione Diretta Potresti farlo Se la Se la Se la Se la quota Promozione Dovesse essere molto Molto bassa Perché quest'anno Ad esempio Il generatore Secondo è arrivato Con 73 punti Con 63 Arrivi Terzo Barra quarto Fatemi sapere la vostra Questa con un commento Cosa ne è pensato di questo format? Pollicione sul video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo A un prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti